la carta del fair play nel 1975 il cfp comitato internazionale fair play pubblicò la carta del fair play un documento che racchiude i concetti fondamentali questo documento un decalogo internazionale delle regole a cui chiunque pratica lo sport dovrebbe ispirarsi vediamo le regole nel dettaglio giocare per divertirsi il gioco è prima di tutto divertimento e la gioia e il piacere che si provano nel momento della pratica indipendentemente dai risultati che si raggiungono giocare con lealtà significa giocare scegliendo autonomamente di obbedire a particolari i valori di correttezza la lealtà si mostra nei momenti di difficoltà e la vittoria del rispetto delle regole sulla volontà personale di ottenere il miglior risultato per se stessi rispettare le regole significa riconoscere che la regola non è altro che una norma che dice cosa si deve fare in una determinata situazione e nello sport come nella vita indispensabile per la convivenza sociale rispettare i compagni di squadra gli avversari gli arbitri gli spettatori significa considerare con rispetto il pensiero la dignità e i diritti altui astenendosi da considerazioni e atteggiamenti offensivi accettare la sconfitta con dignità significa ammettere sportivamente che un avversario è stato più abile di noi è un passo importantissimo per la nostra crescita personale rifiutare il doping il razzismo la violenza e la corruzione lo sport permette di confrontarsi lealmente con tutti doping razzismo violenza e corruzione danneggiano lo sport come danneggiano la vita essere generosi verso il prossimo e soprattutto verso i più bisognosi lo spirito nobile e il coraggioso altruismo caratterizzano le persone generose nello sport come nella vita aiutare gli altri a resistere nelle difficoltà un vero sportivo conosce la fatica e le difficoltà ed è sempre disponibile ad aiutare gli altri denunciare coloro che tentano discreditare lo sport rifiutare il doping il razzismo la violenza e la corruzione significa anche denunciare coloro che attraverso questi comportamenti screditano lo sport onorare coloro che difendono lo spirito olimpico dello sport chiunque col proprio comportamento affermi valori positivi dello spirito olimpico dello sport deve essere onorato e rispettato